Guardia di finanza Foggia, sequestrati 500 kg esplosivi ad alto potenziale, droga e denaro contante all'interno di un palazzo del quartiere del capoluogo. Nel corso della perquisizione venivano rinvenute alcune centinaia di artifici pirotecnici, anche di grosse dimensioni, detenuti illecitamente, quasi un chilo di hashish, denaro contante per oltre 100.000 euro, una pistola a salve sprovvista di tappo rosso, bilance di precisione e materiali utili alla preparazione degli involucri contenenti il materiale esplodente. La perquisizione veniva estesa ad altri locali dell'edificio rinvenendo, nel seminterrato, un deposito con ammassati oltre 4.000 manufatti esplodenti ed ulteriori utensili necessari per il confezionamento. Attesi le condizioni del materiale custodito senza alcuna cautela ed autorizzazione e l'elevato potenziale esplosivo, l'area veniva messa in sicurezza con l'intervento di una squadra di artificieri della Polizia di Stato. Il materiale veniva rimosso, sequestrato ed affidato in giudiziale custodia ad una struttura specializzata. Il detentore è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Foggia a disposizione della Procura della Repubblica che ha richiesto ed ottenuto dal GIP la convalida. Grazie per la visione! Grazie per la visione!